Probabilmente le sollecitazioni che abbiamo avuto in questi giorni che vanno dall'ultima partita ad oggi di apertura della campagna di abbonamenti non è che siano cadute nel vuoto, anzi noi volevamo essere puntuali e precisi nel cercare di accontentare i tanti tifosi che scrivevano o che mi incontravano e che vivevano quando partiva la campagna abbonamenti. Poiché avevamo immaginato, avevamo pensato, io l'avevo anche introdotto questo concetto, io volevo legare l'avvio della campagna abbonamenti anche a un'opportunità di prendere circa il 50% del prezzo del valore che sarà poi il valore di commercio, ma la maglia ufficiale del Parma, del Pisa, la maglia con la quale faremo la prima partita poiché la giocheremo in casa, quindi sarà sicuramente la nero-azzurra che sarà la nostra maglia ufficiale, poi abbiamo altri due maglie ufficiali che sono la seconda e la terza maglia e mi piaceva presentarle contestualmente, come sapete, come tutti sanno abbiamo lavorato sul rifacimento del logo Pisa, deve essere un logo che apre una nuova era, una era che parte dalla serie C, ma che riteniamo sia questo campionato che andiamo a fare una base, una piattaforma su cui andare a costruire una storia nuova di questo nuovo Pisa, di questo magico Pisa e nel cambiare il logo abbiamo anche qui assecondato alle richieste dei nostri tifosi, quello che noi normalmente facciamo perché poi la squadra è in riferimento di chi vive a Pisa, di chi ama il Pisa, di chi li fa Pisa e quindi dei tifosi, abbiamo condiviso un logo e in ultima analisi abbiamo anche, diciamo, abbiamo assecondato quelle che erano molte delle richieste, specialmente dei tifosi meno giochi, quindi di poter vedere un logo con la dicitura Sporting Club che era la storica dicitura della squadra di calcio, anziché AC che era Associazione Calcio, un SC che è Sporting Club. Abbiamo trovato l'intesa con chi deteneva questa denominazione, anzi ringraziamo il signor Grassini che ha dato la sua massima disponibilità e quindi abbiamo aperto il fronte della finalizzazione di questo logo, naturalmente i tempi sono stati un po' più lunghi e finché non avevamo il logo non eravamo in condizioni di presentare la maglia con il logo come sarà, in realtà non sarà neanche come lo vedremo questa mattina perché sarà un logo in rilievo molto più prezioso, quindi noi abbiamo, nelle maglie ufficiali che verranno consegnate tra una decina di giorni, questi sono ufficiali ma hanno lo stesso logo che va sull'abbigliamento tecnico d'allenamento, mentre quello delle partite sarà un logo con un rilievo simile in termini di spessore a quello di quest'anno, quindi leggermente più prezioso, un pochettino più costoso ma abbiamo voluto farlo perché a nostro avviso dà ancora più esclusività a questa maglia e quindi abbiamo aspettato di avere la finalizzazione di questo, abbiamo aspettato di avere la certezza che il materiale tecnico sarebbe stato consegnato, crediamo per l'avvio del ritiro, anzi sarà necessario che questo avvenga ma Adidas ha confermato questo e di solito loro sono molto precisi per cui riteniamo che questo avverrà sicuramente e stamattina calde 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 ci sono arrivate le maglie con la logatura, la seconda e la terza maglia, purtroppo non siamo riusciti a farci rilogare la maglia ufficiale con il logo nuovo perché questa era stata fatta una settimana fa utilizzando quello che era il logo che aveva a disposizione, noi volevamo solo vedere per gli equilibri dell'esposizione dei marchi e questa è la vicelunga, la vicelunga su un fatto, qui siamo io e Riccardo che da 4-5 giorni abbiamo tentato in ogni maniera di convincere, di trovarci questa maglia, tutte le maglie sono tutte allocate in Stivaldo, in Germania, tutte per voi, non c'è più una maglia nero-azzura quindi in Italia chi vorrà una maglia nero-azzurra, anche se potrebbero esserci altri modelli ma non riesce ad avere questa maglia e allora ha detto non riusciamo ad avere una maglia perché sono tutte lì pronte per la timbratura perché ci saranno consegnate, noi abbiamo chiesto entro i 12, speriamo che arriva almeno entro i 14, è già sufficiente e quindi la dice lunga sul fatto che abbiamo fatto un lavoro veramente di cesello, l'Adidas ha risposto alle nostre aspettative, quindi è una maglia che è solo dedicata al Tisa e quindi credo che questo sia la dice lunga. Sono invece arrivate già logate la seconda e la terza maglia che adesso siamo, io ritengo molto belle. Seconda la rossa, terza la bianca. Grazie dell'aiuto, grazie dell'aiuto. Qui vedete che non c'è lo sponsor centrale, questa è già la maglia definitiva perché l'aeroporto di Toscani guarda la sua posizione e riteniamo che nel giro di una decina di giorni dovremmo avere anche il main sponsor. C'è anche il fondo del numero già preparato dietro? Sì, sì, sì. Ecco, questo è il modello del capitano. Adesso vi faccio vedere anche l'altra girata. Il numero della bianca è blu quindi? Sì, o nero. No, è un nero. Questo è il fondo di dietro se lo volete. Sì, sì. Maglini ha perso un brazzo. Ma dove che non sta in lampiere? Come è? Ecco, qui c'è. Ci sarà appaesato il giorno fa e purtroppo non c'erano altre per farvi vedere. Quella che sarà la maglia ufficiale. La maglia ufficiale è questa, è sotto ufficiale, è sotto ufficiale. E la seconda e la terza sono anche molto belle. Però qui poi preciserà gli aspetti tecnici Riccardo, la promozione riguarda la maglia ufficiale perché comunque i nostri, poi nulla osta che qualche tifoso voglia avere la seconda e la terza perché noi ci auguriamo che tutte le maglie abbiano lo stesso processo. Si può richiadere quindi la possibilità? No, la promozione è solo... Perché abbiamo dovuto ordinare i quantitativi e purtroppo qui non asseconderemo questo perché non c'è, però durante il corso della campagna, cioè se uno vorrà la seconda e la terza maglia. E' il recupero. E quindi ecco i motivi per cui siamo arrivati un po' più lunghi nell'approccio alla sottoscrizione agli abbonamenti. Solo perché volevamo essere in condizione di avere e fare una presentazione di tutte le opportunità. Credo che una campagna abbonamenti è il primo segnale che la gente chiama avvisa dalla società di avere approvato il progetto, di aver condiviso quello che si sta facendo, di dare quel calore che la squadra non può non avere e di integrare la nostra formazione con una parte molto importante che è quella dei tifosi. Io credo che le premesse saranno sicuramente di un campionato che voi, voi giornalisti che vivete a Pisa, i tifosi conoscono certamente molto bene, l'hanno vissuto, è la mia prima esperienza da tifoso anche, ma da tifoso in particolare di una squadra che fa questo campionato. Noi crediamo che purtroppo il Pisa sarà un riferimento per gli avversari e sarà una squadra che già perché retrocessa viene da una categoria superiore. La storia del Pisa peserà anche sui nostri avversari, però peserà su noi perché avremo il dovere di difendere con assiduità e con temperamento questi colori e cercare di condurre un campionato d'avanguardia. Possibilmente di arrivare a ottenere quello che non vogliamo dire per scaramantia. Credo che ci sarà da soffrire ma ci sarà da divertirsi. Io credo e sono convinto, anzi questo non è che io credo, ma sono convinto che si manterranno fede a tutte le attese e quindi insieme faremo un campionato che vorremmo che venisse ricordato e scrivesse una pagina importante di questo bio progettuale. Possiamo entrare magari in qualche aspetto tecnico che Riccardo ha seguito, quindi degli aspetti operativi legati alla campagna abbonamenti, qualche piccola informazione che però abbiamo già dato nelle precedenti campagne di quello che è il campionato, di quello che sarà la prima partita ufficiale, di quello che saranno le fasi fino adesso, di quello che sarà un'immagine che accompagnerà la nostra campagna abbonamenti anche con gli slogan che vorremmo aggiungere alla nostra campagna. Pubblicheremo in giornata un manifesto, anche se ormai non ci sono più, però sono manifesti social, virtuali che segnano un po' quello che è la campagna. Io e Riccardo ci siamo dati così, ci siamo fatti un giochino che è bene, che al nostro interno ci facciamo, ci siamo fatti delle, innanzitutto insieme, ieri sera abbiamo fatto delle scommesse su quanti potranno essere gli abbonamenti e vediamo chi c'è zecca, chi vince questo tipo di scommessa. Seguiremo, 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 per la prima settimana ieri io, l'Avvocato Polvani e Bruno Sabatini, che hanno andato a cena insieme alle 11 quando abbiamo finito di alcune cose, abbiamo fatto una scommessa a tre, naturalmente chi arriverà più lontano dal numero degli abbonamenti, paga la pizza al prossimo mercoledì della prossima settimana. Direi che puntualmente tutti i giorni seguiremo l'avanzamento degli abbonamenti, quindi noi vogliamo cominciare l'annata con un seguimento di un piccolo record, vorremmo superare il numero degli abbonamenti avuti nella miglior campagna di abbonamenti del Piso nel campionato di Serie C, quindi... Che è? Quota 3.000, infatti l'abbiamo indicato anche nelle comunità. L'obiettivo è quota 3.000, diciamo. Sarebbe un buon appicio perché vorrebbe dire partire con una vittoria, perché la prima vittoria è aver superato il primo record dell'avvento e poi speriamo di conseguire altri record durante il nostro campionato. Ci ho detto... Una specifica sulle maglie, bianco e rosso sono i due colori che sono stati scelti perché sono i due colori della città, oltre al nero azzurro. Nero azzurro è il nostro colore, ce lo teniamo stretto dalla prima maglia. Bianco e rosso sono gli altri due colori, non sono abbinati ma comunque sia in qualche modo. Esatto, in qualche modo. Le strisciati si aiutano in questo. Sono, qualcuno sicuramente dirà, sono maglie semplici, ci aspettavamo, sono volutamente semplici perché deve passare il concetto del brand a cui si è legato il Pisa e soprattutto il logo è quello che rappresenta il Pisa. Per le maglie più articolate, per le maglie più scenografiche, concedetemi il termine, ci sarà tempo perché il contratto con Adidas non è un accordo annuale ma è un contratto pluriennale per cui poi ci sarà modo per anche creare nuove... Però abbiamo scelto uno sponsor che ha nel minimalismo e l'esaltazione del suo marchio la sua linea di prodotti. Quindi la linea che veste Real Madrid, che veste Bayern Monaco e la linearità della linea è questa. Quindi se vogliamo i fiori, i ricami sulle maglie dobbiamo andare su caratteristiche diverse ma non possiamo disegnare noi per l'Adidas. Quindi noi abbiamo scelto volutamente un marchio di prestigio che vestisse le nostre maglie con quello schema di minimalismo che rappresenta secondo me l'eleganza. Oggi ci si può vestire con l'abito da sera oppure anche con un paio di jeans e un blazer blu ed essere forse più eleganti di un abito da sera. Quindi noi abbiamo scelto un brand, abbiamo scelto un profilo di prestigio e il minimalismo o il massimalismo della linea la disegnano gli stilisti delle case. Comunque le maglie sono belle quindi... No, no, voi sapete che c'è stata un po' di moda con gli esagoni... Ma non ho scelto... Ma io si trovo poco eleganti, no? Ma non ho scelto, voglio chiedere una cosa. Lo sponsor, se sarà sempre Toscana Aeroporti come è sulla maglia digitale... Come è un sponsor che è un contratto che abbiamo ancora per un anno. M è un sponsor, credo che... MGM? MGM non c'è, no? No, questa è stampata per... Cosa per capire? Questa è stata una maglia stampata per capire come stanno... Quindi Toscana Aeroporti andrà praticamente al posto dove ora vediamo MGM. MGM essenzialmente state cercando una lavorazione principale. Guarda, 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 ok. E poi se... E dietro ci sarà... E dietro è confermata la casa di cura di San Rossore. Sì, San Rossore abbiamo un accordo con Andrea Madonna che o il pantaloncino per lui era indifferente, noi adesso interageremo o il pantaloncino o il retro a seconda delle... E con guardi di città invece la situazione contrattuale com'è? Guardi di città che è nato in quanto... Guardi di città abbiamo fatto un accordo di sei mesi... Ah, è scaduto. La scorda è scaduto, potrebbe essere anche rinnovato, ci sono due o tre... Il nostro responsabile, Angel Perriello, ha lanciato due o tre proposte a due o tre clienti importanti, potenziali sponsor, per cui noi crediamo nell'arco dell'inizio, di qui all'inizio del campionato, di avere definito anche il main sponsor e capire il pantaloncino, se guardi di città o se... Quindi fortunatamente, ma ci saranno anche novità, poiché noi abbiamo una linea di prodotti direi molto molto bella, compresa le maglie d'allenamento che hanno avuto un successo, voi l'avete vista nella presentazione degli allenatori, quindi l'allenatore avrà una maglia nera e la squadra avrà una maglia azzurra d'allenamento. Quelle anche dei bambini, sono vero? Adesso usano i bambini, sono estremamente belle, anche lì le pettorine, le maglie d'allenamento potranno avere altri sponsor, anche qui Angelo Perriello ha già raccolto per esempio uno sponsor per la tuta di rappresentanza, la tuta di rappresentanza è uno dei punti forti direi della collezione, ecco qui Adidas ha fatto un passo avanti rispetto a case simili, quindi case di abbigliamento tecnico, ha fatto delle linee di prodotto tecnicamente molto belle, anche esteticamente molto belle, e quindi noi avremo la possibilità, le borse, gli zaini, le maglie d'allenamento, l'effettorino, di trovare tanti imprenditori che vogliano attraverso il nostro veicolo comunicare le loro insegne e ritengo che la visibilità addirittura di quella tipologia dei prodotti sia molto importante, non dico che sia importante come la maglia naturalmente ufficiale, che è il riferimento di ogni squadra, ma può essere importante perché avremo delle trasferte, avremo degli allenamenti, avremo delle situazioni particolari, potremo creare eventi sulle singole partite, quindi direi che noi metteremo in campo tutto quello che è possibile in modo che il media Pisa, che è così importante in questa città, in questa provincia, possa rappresentare un riferimento sicuro per qualunque investimento commerciale che imprenditori, commercianti, artigiani possano immaginare attraverso i nostri colori e il nostro brand. Un'altra cosa che volevo chiedere è quegli abbonamenti, si possono sottoscrivere esclusivamente a Pisa Point, quello attuale vicino allo stadio? Sì, dico purtroppo perché noi avremmo voluto anche qui dare molta più comodità ai nostri tifosi, il tempo è stato tiranno, tutto quello che noi abbiamo dovuto, ahimè, fare in questo mese è stato enorme, sia sulla parte legata al brand che sull'abbigliamento tecnico che cambiavamo, ma specialmente sulla parte organizzativa e sulla parte burocratica che oggi è diventata una cosa pazzesca, oggi Bruno Sabatini sta partendo per Milano perché abbiamo della formalità da eseguire, proprio i documenti burocratici che sono diventati tantissimi, per noi poi che siamo arrivati da soli sei mesi dobbiamo anche prendere documentazioni che riguardano le gestioni precedenti, i libri verbali, per cui avevamo un'idea di poter anche decentrare dei riferimenti, però qui bisogna lavorare con un programma che noi speriamo di fare per i prossimi mesi, con i punti di vita diversi, c'è da creare un sistema informativo ad hoc, ci sono problematiche con la CIA, quindi nel breve tempo non saremmo riusciti a farlo, quindi ci dispiaciamo di non avere potuto dare maggior servizio ai nostri tifosi, però... Però prima o poi arriverà, prima o poi arriverà, quelle formalità di chi parlava lei è perché entro dopo domani bisogna essere a posto, con le iscrizioni al campionato, diciamo di burocrazia risolvere... Ma proprio burocrazia, prendere un documento, firmarlo, prevedere un consiglio di amministrazione che sottolineano questo documento, un verbale di assemblea, quindi stiamo finalizzando questa parte, mentre Fideliusione, questa cosa qua per noi è già tutta a posto, rientro nei ripianamenti, noi questo l'abbiamo fatto per nostre esigenze gestionali, purtroppo la burocrazia e tanti documenti sono tantissimi e quindi abbiamo dovuto dividere le nostre risorse tra tanti aspetti e sicuramente se anche si fossimo concentrati, finendo il campionato a maggio non saremmo riusciti a creare un software di base per poter avere un decentramento del servizio di ticketing. Era un progetto che questo sarebbe dovuto partire a gennaio per poter essere pronti a lui. Noi crediamo che adesso invece, avviata la fase di campagna, aperte le opportunità che poi riguarderanno anche delle offerte promozionali per dei gruppi di biglietti per le prime sette partite, le seconde sette, per non usare il termine fiscalmente o non so, ma probabilmente, questi partireanno con un po' di... Sì, sì, contemporaneamente. Aspettatevi nel calendario, insomma, se il calendario poi saranno... Sì, non c'è problema. E quindi io credo che uno dei progetti che noi abbiamo, tra altri progetti importanti a livello organizzativo, è proprio quello di fare un sistema di biglietteria, di ticketing più evoluto che permetta una maggior comodità al tifoso, no? Una di queste cose la sta organizzando adesso Riccardo, che è quella di aprire nel nostro sito la possibilità di comprare direttamente un materiale che ci metteremo, sia tecnico che gadgeting. Quindi possiamo dire che nel giro di dieci giorni lancieremo una spilla molto bella, mandata con un nuovo logo, che sarà, secondo me, una cosa anche preziosa e interessante per, speriamo, per 300.000 tifosi della provincia. Sui progetti squadre, invece, questo è il po' di un 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 po'. Anche per permettere ai ragazzi del Pisa Point, che ringraziamo perché hanno un compito probante, ma sono ben rodati, perché insomma la massa di persone che arriva lì, poi domande, dubbi, però cerchiamo di fare chiarezza anche per semplificare il lavoro a loro e per rendere più facile la vita anche ai tifosi. Quindi, l'abbonato che va adesso in prelazione, anche quello che poi andrà, non in prelazione, più avanti, nel momento in cui sottoscrive l'abbonamento pagando 46 euro sul momento della sottoscrizione, ha diritto alla maglia, cioè compra la maglia. La compra, gli viene rilasciato un coupon che vale come buon acquisto, poi verranno organizzati degli eventi spalmati sul territorio, comunque nel tempo in modo da permettere a tutti che sia il più agevole possibile per recuperare la maglia. Cioè, noi diremo, il giorno X da quest'ora a quest'ora viene allestito un point allo stadio, piuttosto che in una zona che troveremo. In Miglia Semirale. Esatto. Il tifoso che ha acquistato... Cioè, da 14-15 di luglio sono ritirati. 15 giorni, sì. A fine mese, diciamo, se mettiamo il comporto di quello, forse prima. Il tifoso andrà lì, col suo coupon, la ricevuta del 46 euro che ha avversato. E' inoltre a vedere l'amichevole che faremo, la prima di copita. 46 euro. 46 euro, legato a questa cosa anche qualche evento per alcuni punti della città, per cercare di sempre più coinvolgere. Quindi è una cosa importante da chiarire che uno ha il momento dell'abbonamento. Però a questa point, se investe a 46 euro, gli danno un coupon... Lui si mette con la banca, per virgolette, la maglia nuova, il prezzo... La forseglie tra le tre o è quella... No, no, home kit, quindi il termine inglese... Maglia di casa, nera azzurra. Come fa effetto per la gente? Quanto costerebbe invece? Credo la cifra, non so se... 76, 76 euro. Quindi risparmio di 30. Quasi il 50%. Quasi il 50%. Altra cosa importante... Un po' meno del 50% tutta la lavoratura. Altra cosa importante, questa promozione riguarda chi sottoscrive l'abbonamento, tutte le tipologie di abbonamento, meno lo speciale ragazzi, ovviamente, perché lo speciale ragazzi che è 35 euro in ogni settore, per quella tipologia di abbonamento non è previsto. Nulla toglie che il papà che fa l'abbonamento e fa lo speciale ragazzi per il figlio, poi la maglia la prenda per il bambino, non è che uno... è obbligatorio. Compra la maglia, poi quello che ne vuol fare a chi la vuol dare, a chi la vuol regalare, liberissimo di farlo. Però non è incluso lo speciale ragazzi. Non è incluso lo speciale ragazzi. Come? Discorso... Una cosa, anche quest'anno in Lega Pro, Sareci, insomma, c'è i numeri... Sì, obbligatori. Ecco, quindi la maglia complessiva non la può scegliere con il numero del giocatore o meno? La deve prendere con il numero che ha, se no diventa l'unico il processo. Anche perché aumenta tutto l'iter organizzativo. Altra cosa importante, il pacchetto famiglia, perché sono già arrivate alcune richieste, vale per le famiglie. Nel vero senso della parola, c'è babbo, mamma e figli. Altri tipi di nucleo non viene preso in considerazione. E compagno e compagno. Esatto. No, compagno e compagno se sono babbo e mamma, però per esempio c'è stato un caso particolare di nonni o zii particolari, non rientrano in questo pacchetto famiglia. Come non rientra in pacchetto famiglia un figlio che ha più di 18 anni? Perché ovviamente a quel punto lì, se no sarebbe una promozione troppo larga. Anche perché l'idea di questo pacchetto famiglia nasce per le famiglie numerose. Perché il papà si abbona, la mamma si abbona e ha l'abbonamento ridotto. I figli o non pagano l'abbonamento o lo pagano a prezzo dimezzato. Quindi è fatto con questa idea proprio per cercare di portare le famiglie all'estate. E tutti nello stesso settore? Tutti nello stesso settore. Anche qui è una cosa importante da specificare. Non possiamo garantire che le postazioni siano una accanto all'altro. Anche perché c'è una relazione in essere se mettiamo il caso di una persona che si è abbonata lo scorso anno. Quest'anno decide di far abbonare la moglie e il figlio. Non è che possiamo spostare le persone che erano accanto a lui nella stagione passata. Troviamo la soluzione migliore possibile. Però non può essere garantita la contiguità dei posti come abbiamo specificato nel comunicato. Altra cosa, aggiungo poi, lascio la parola alle domande giustamente per il Presidente. Ci stiamo organizzando anche per realizzare dei corner speciali nel ritiro di store. Soprattutto nel fine settimana quello clou dove ci sarà il venerdì sera la presentazione in piazza D'Arzo. Il sabato è la partita principale e la domenica è un po' il giorno di festa per chi ha deciso di seguirci in Trentino. Quindi prenderanno la mente di vicino. No, in quel weekend lì tifosi che seguiranno la squadra troveranno dei corner dove acquistare materiale. Ma c'è un po' il cappellino della squadra. Non l'abbonamenti. No, non l'abbonamenti solo. No, perché è il problema dell'inticare. Quindi ci stiamo organizzando, speriamo di riuscire a mettere in piedi di tutto perché come giustamente assolutamente il Presidente è un work in progress a velocità elevata e quindi stiamo cercando di alzare il ritmo il più possibile per avvenire incontro alle esigenze di tutti.